benvenuti all'economist della settimana con mario alemi e alessandro simonetti iniziamo con una classifica che stila l'economist sulle migliori serie televisive ne elenchiamo ne elenchiamo tre e poi dopo metteremo il link all'articolo dell'economist al primo posto better call soul al secondo posto the crown e al terzo posto the great better call soul è un prequel di breaking bad mentre the crown altra serie famosissima e tutti conosciamo finisce con la quarta stagione siamo negli anni 80 in cui dieci anni dopo l'ingresso della della gran bretagna nell'unione europea e inizio del periodo di escesa economica l'escesa economica della gran bretagna con il cosiddetto big bang attuato dalla margaret thatcher c'è la deregulation deregolamentazione dei mercati finanziari che hanno permesso a londra c'era un bellissimo articolo del fine anni 2000 sull'economist in cui descriveva la londra pre big bang e post big bang c'è la solo puzza di cavolo in giro nel 2009 altro che puzza di cavolo ci sono i migliori ristoranti al mondo come tutti gli amici che erano stati a londra negli anni 80 dicevano che era terribile è drammaticamente tragicamente buffo che the crown parli di quel periodo storico proprio mentre nel frattempo stiamo assistendo anzi abbiamo raggiunto l'ufficializzazione della brexit a tutti gli effetti infatti l'economist ha dedicato un articolo a riguardo che si intitola britain has lost the eu can it find a ball potrà trovare un ruolo una delle frasi che mi sono piaciute di più di questo articolo è finalmente libera da un'infinita serie di riunioni con con l'unione europea i diplomatici britannici finalmente avranno più tempo per il globetrotting per andare in giro per il mondo ovviamente è semi eronica questa frase ma è anche tragica sembra che adesso quello dice l'economist la gran bretagna per far dispetto a se stessa non voglia più parlare con l'europa e quindi sta andando in mondo a cercare accordi finanziari con filippine india saranno anche delle economie importanti però i tre grandi poli mondiali al momento diciamo per ordine di trend di crescita sono cina stati uniti ed europa la gran bretagna è alle porte dell'europa e nel continente europeo forse sarebbe meglio che iniziasse a parlare seriamente con l'europa la gran bretagna ce la farà o non ce la farà da sola secondo l'economist che comunque inglese e mi trovo assolutamente d'accordo la gran bretagna poi alla fine parliamo di inghilterra ha degli asset enormi prima tra tutti i servizi segreti cioè la gran bretagna è l'unico paese in europa sicuramente che ha dei servizi segreti che conoscono la matematica non stiamo parlando di persone che sentono a fare le operazioni alla lavagna ma di gente che è in grado di di creccare un computer di fare di fare quello che è veramente importante adesso quindi ricerca sulla criptografia sulle comunicazioni sono sempre stati importanti ricordiamoci che sono stati loro comunque decriptare enigma con turing hanno una scuola matematica importantissima da cambridge poi oxford e quindi per questo ovviamente per l'europa è una perdita enorme ricerca biologica uno dei vaccini in circolo è stato sviluppato in gran bretagna tra l'altro la variante inglese del covid si dice variante inglese però loro sono quelli che hanno fatto assolutamente più analisi di tutti più sequencing del dna di tutti quindi sono quelli sono gli unici che poi avrebbero potuto capire che ci sono delle varianti più infettive delle altre perché sono avanti in questo università sono le migliori le loro università sono tra le migliori al mondo oramai le migliori città sono principalmente ovviamente americane cinesi e britanniche comunque sport non vincono mai wimbledon però wimbledon inglese non vincono mai i campionati mondiali di calcio però la tennis league penso che sia il campionato di calcio più di successo al mondo poi la musica indubbiamente la musica inglese in europa è quella che ha avuto più influenze di tutti quindi ha un sacco di asset problemi i problemi sono enormi però in realtà è una che l'economia sta andando abbastanza maluccio in realtà ma soprattutto dice l'economist e ci troviamo tutti d'accordo la classe politica inglese che prima veniva vista come snob quello che vuoi però tra le più capaci al mondo adesso viene considerata una madre di buffoni quindi abbiamo un primo ministro che ne abbiamo già parlato male altre volte però praticamente fa gli accordi poi firma un accordo internazionale poi dopo un anno dice ah no ma scherzavo noi questo accordo non lo rispettiamo adesso le frasi che che utilizza l'economist è che praticamente la se fosse una persona la gran metà né mentalmente instabile dice ha prodotto un enorme ammontare di volatilità in politica estera gli osservatori sono stravolti meravigliati dalla sua willingness dalla sua capacità di infliggersi male cioè questo masochismo che a me viene un po' mente in mente fight club quando i protagonisti si prendono a cazzotti la gamma etania sta facendo esattamente la stessa cosa dice ma soprattutto alla mancanza di un piano in fare ciò che ha voluto fare lei e dal caos che ne ha fatto scaturire voglio andarmene va bene quali sono i piani non ce li abbiamo va bene cerchiamo di trattare agente si fa racconto ah no ma noi non lo rispettiamo cioè sta facendo se qualcosa si poteva fare di sbagliato di sicuro l'ha fatto è vero che i tempi sono cambiati però la gran viettania storicamente ha dimostrato di essere una potenza che poteva contare su se stesse farcela da sola sì però aveva un enorme impero e l'impero un po per definizione è una un'organizzazione che sfrutta il lavoro altrui tipicamente hai una parte dell'impero che lavora viene tenuto in regime di schiavitù o schiavitù come nell'impero inglese poi molto intelligente molto brava però ormai è come una musicista la gametagna l'inghilterra che molto virtuosa si rifiuta di giocare di suonare con una qualsiasi orchestra importante e vuole fare solo la solista va bene fai la solista però purtroppo la musica oramai non non si fa più da soli e questa qui da sola si mette a fare pernachi al a una delle tre orchestra più importanti cioè con l'europea a scorreggiare sembra una pazza furiosa sarà anche geniale in alcune cose ma non è più certamente affidabile prima quando stavamo chiacchierando per farmi capire meglio il fenomeno della brexit mi hai citato un film dal titolo brexit the uncivil war e anche utilizzato una un'arguta citazione di tolstoi tolstoi in guerra e pace se la prende sempre con i grandi condottieri se si credono grandi ma realtà quello che succede non è merito loro è merito di altre persone del singolo nella massa che fa andare avanti per caso la storia in questo caso il singolo che ha fatto cambiare la storia si chiama dominic cammings era il capo stratega consigliere stratega di johnson fino a un mese fa quando se ne è dovuto andare per uno scandaretto sul covid e che aveva avuto l'intuizione che la politica era cambiata e quindi nel 2016 ha fatto una campagna elettorale per far vincere il brexit basata esclusivamente sui social network e c'è questo film fantastico che si chiama brexit di uncivil war quindi brexit la guerra incivile o non ci dire in cui l'attore che poi lo stesso attore che fa recita sherlock la serie sherlock che a me piace tantissimo in persona cammings e fa capire quanto dall'altra parte cioè il rimane chi voleva restare è rimasto spiazzato cioè quelli giustamente facevano una campagna basata su dati certi interviste a telegiornale l'altra parte c'erano all'europa vuole le banane con una certa curvatura l'europa sta cercando di regolamentare la morbidezza dei cuscini ah noi risparmieremo 300 milioni al mese tutte frasi che non avevano assolutamente statement affermazioni che non avevano assolutamente senso che andavano nei social come dei topi non riuscivi più a bloccare non riuscivi più a fare niente bugia non bugia chi se ne frega alla fine hanno vinto col 52 per cento quindi manco 70 per cento e hanno portato un intero paese nel caos più profondo per aiutarmi a inquadrare meglio la figura di boris johnson mi hai citato invece un documentario che parla di lui che si trova su youtube dal titolo when boris made dave un documentario del 2009 di channel 4 è un documentario secondo me molto interessante ammettiamo che sia realistico una docu fiction piena di interviste a gente che conosceva sia boris johnson l'attuale primo ministro sia dave cameron il primo ministro che ha fatto che ha avuto la bella idea di far fare di fare questo referendum sicuro di vincere ed emergono due caratteri totalmente opposti a questi due leader conservati del partito conservatore del cameron è la tipica persona che molti di noi hanno conosciuto in università comunque super intelligente pure fisicamente piacente straricco praticamente aristocratico che ha problemi solamente perché si è fatto un cannone a scuola quindi in più si diverte anche e che va avanti tranquillo non gliene frega niente della politica non si mette a fare giochetti per essere eletto lui va avanti tranquillo dall'altra parte c'è boris johnson che è il classico gorilla sfigato che tutti noi abbiamo conosciuto a scuola in università il tipico non particolarmente intelligente bravo retore quindi bravo a parlare senza grandi idee alle spalle c'è boris johnson non fa altro che citare i classici per cui ancora questa idea della gra del grande impero romano la cui anima è stata poi assorbita dalla gran bretagna che un'idea del settecento di un monaco del del monaco che ha creato un po l'identità nazionale inglese questo bide scritto bede bide sembra no che c'erano che loro sono gli eredi dell'impero romano alla fine di tutta la religiosità romana e questo lui continua a citare come un in maniera veramente pomposa i poeti romani filosofia cicerone e cosa che continua a citare sempre la stessa cosa dicendo che lui ma lui sarà primo ministro assi io sarò primo ministro e sembra che se ne vuole convincere lui che sarà primo simile primo ministro perché non è credibile che un personaggio del genere diventi primo ministro e invece invece lo è diventato adesso noi dobbiamo solo star zitti i personaggi che abbiamo al governo quindi per chi volesse rimanere attaccato allo schermo metteremo il link dei due film che cito nuovamente brexit the uncivil war e l'altro disponibile su youtube when boris made dave hai parlato di tre grandi orchestra in ordine di crescita economica cina stati uniti europa un approfondimento sulla cina con l'articolo dal titolo the great mall of china il futuro dell'e commerce sarà in cina il primo articolo della sezione business è dedicata e dedicato alla cina noi abbiamo parlato addirittura nel nostro primo numero di ant quindi della della società che si era formata da alibaba per le transazioni finanziarie e quello che è successo noi ha parlato di queste norme ipo di questa entrata in borsa di ante che non è avvenuta perché la l'agenzia che regola la finanza regolarmente della consob in cina ha bloccato questa entrata in borsa non solo si è messa a prendere un po ammazzate anche alibaba un po sicuramente perché jack ma il fondatore si era messo aveva deciso che lui poteva parlare male delle banche statali cinesi e questa cosa non va molto bene in cina un po perché obiettivamente alibaba ha delle pratiche terribili e così anche ante noi avevamo parlato solamente del lato buono di di ante no del fatto dal lato buono della potenza di ante nell'analizzare i dati non avevo detto che per esempio ante fa una cosa vietatissima in e alibaba fa una cosa vietatissima in europa e cioè dare prezzi diversi a persone diverse siccome analizzano un sacco di dati loro sanno se tu hai una disposizione alla spesa più alta di me e quindi ti alzo il prezzo il prezzo dipende da chi sta navigando sul sul sito cosa ovviamente vietatissima e ne fanno tante altre quindi finalmente il il regolatore cinese ha cominciato un po a mettere il piede sul sul freno perché è importante questo perché in realtà in cina sono tre società che hanno il 90 per cento di tutto a noi sembra che google facebook e amazon siano grandi ma in realtà hanno tutti anche loro tre insieme meno della metà nel senso che abbiamo tante società perché per tutte le transazioni finanziarie comunque sì c'è paypal però c'è mastercard c'è visa è vero c'è amazon ma un sacco di transazioni avvengono attraverso shopify c'è ebay c'è maggior verità da loro il 3 per cento e da loro tre società hanno tutto sono sia banca sia e commerce e son tre in tutto fine sono anche social network e tutto quanto quindi obiettivamente la concentrazione di potere è enorme e poi può essere veramente una minaccia anche per il governo qua perché però perché dice che il futuro comunque in cina perché in cina comunque il mercato dell'e commerce è di 2 mila miliardi che è il mercato dell'e commerce europeo più americano insieme dell'e commerce in cina è enorme il tutto gestito da altre società quindi mi sembra benvenuta la notizia che il regolatore cinese ha deciso di comunque di regolare un pochettino vedo un pattern in quello che hai detto perché noi qui in occidente si dice sempre i cinesi non lo sanno fare i cinesi coppiano noi lo sappiamo fare meglio di loro eppure poi alla fine i cinesi sanno fare le cose meglio di noi e ad un prezzo estremamente più competitivo esatto e quello che è successo per tipo per i pannelli solari per l'energia nucleare adesso loro sanno fare noi no e quindi conclude l'economist con una frase molto breve watch and learn guarda e impara adesso siamo noi probabilmente che presto dovremo guardare imparare dalla cina